buongiorno in questa serie di video parleremo dell'autenticazione e quindi dei meccanismi principalmente di login per autenticare la nostra applicazione web partendo sempre dal presupposto che la nostra applicazione sarà una single page application come abbiamo fatto finora e quindi avrà il bisogno di autenticarsi rispetto a un server rest che offrirà anche le funzionalità di autenticazione per quanto riguarda l'autenticazione in realtà vedremo nell'esempio della prossima settimana che non c'è una grossissima differenza tra un'applicazione renderizzata nel server server side o un'applicazione come quella che stiamo realizzando finora questo perché come vi sto per raccontare l'autenticazione il meccanismo tradizionale uno dei due meccanismi principali di autenticazione quello che appunto spesso si usa per le applicazioni web che è basato sul concetto di sessione risiede principalmente nel server e quindi l'autenticazione vera e propria avviene principalmente nel server ma incominciamo cosa vuol dire innanzitutto autenticazione brevemente autenticazione vuol dire che vogliamo validare che gli utenti del nostro sito della nostra applicazione siano effettivamente chi dicano di essere quindi il server dimostra chiede al client client all'utente dimostrami che tu sei chi dici di essere e questa dimostrazione siamo abituati lo vediamo spesso nel web tipicamente vuol dire inserire una mail un username oppure una e una password per autenticare per dimostrare di essere la persona associata a quella mail che appunto conosce quella password l'autenticazione nel web appunto è un processo da realizzare in maniera non semplice ed è anche un processo che se fatto manualmente può essere abbastanza pro nei errori perché ci sono tanti piccoli punti di fallimento per quelle cose possono non funzionare o possono funzionare in maniera non sicura ci aiuta in questo processo che appunto non è semplice ed è appunto pro nei errori il fatto che ci siano tante best practice perché come immaginate tutti i siti fanno autenticazione hanno un qualche tipo d'autenticazione quindi da anni quindi è un processo che si è appunto ben consolidato ed è una specie di se diciamo standardizzato in un certo senso l'autenticazione è appunto il processo che sta alla base del login ed è spesso sempre nel web fatto con credenziali la maniera classica di farlo e chiedere un nome utente qualcosa un identificativo per l'utente un nome utente scelta un indirizzo mail qualcos'altro è una password per confermare e per dimostrare che tu sei proprio quell'utente che ha indicato la password che ha indicato con un utente ovviamente esistono tonnellate di alternative che alcune di queste le accenneremo nel discorso ma ovviamente non le affronteremo alternative che valgono per il web e alternative che valgono anche al di fuori del web se avete esperienza con un'applicazione bancaria per esempio ecco la banca utilizza quando ha fatto un'operazione delle alternative per l'autenticazione e a volte per l'autorizzazione come dei codici che che vi invia poi scadono dopo un po di tempo e quant'altro noi ovviamente non dobbiamo fare un'applicazione sicura abbastanza o sicura così tanto sicura dover gestire dei fondi bancari dei soldi o qualcosa del genere ma facciamo qualcosa di nettamente più semplice nettamente meno sensibile che riguarda dati sicuramente meno pericolosi azioni meno pericolose e quindi l'approccio come buona parte in realtà delle applicazioni web esistenti quindi l'approccio tradizionale è un approccio che ci permette di avere di fare molte cose con una certa tranquillità allora ho citato autorizzazione entrambi autenticazione autorizzazione e io d'ora in poi userò out per indicare la somma delle due molto spesso vengono utilizzate insieme per appunto per proteggere l'accesso a un sistema qual è la differenza tra le due beh l'autenticazione come dicevo prima ci permette di sapere di controllare l'identità di un utente verificare che tu sei quello chi dici di essere è tipicamente fatta con le credenziali e permette in un certo senso un'esperienza utente personalizzata io sono io sono luigi e quindi quando accedo al sito vedrò le cose che mi competono accederò alle parti che mi competono vedrò magari sito in un certo modo diversamente da un'altra persona l'autorizzazione invece è il processo per cui si decide se tu hai permessi di accedere una specifica risorsa e non solo per accedere ma anche cosa puoi fare a quella specifica risorsa allora immaginiamo di avere di essere un utente che ha permesso di che su un sito di podcast come nel nostro esempio per per l'esame e noi possiamo essere come per l'esame creatori o ascoltatori e quindi entrambi possiamo autenticarci sul sito sia come creatori che come ascoltatori però il creatore è autorizzato a fare cose diverse rispetto all'ascoltatore e nel nostro esempio del per l'esame il nostro progetto l'esame avremo anche per esempio le persone gli utenti non logati gli utenti non logati non sono autenticati però sono autorizzati a fare alcune cose ci sono cose di cui tutti hanno autorizzazione di fare e cose di cui devi avere devi essere autenticato per poterle fare e in base al processo di autenticazione a come ti sei autenticato puoi avere o meno certi diritti di autorizzazione quindi i diritti di autorizzazione possono dipendere dall'identità stabilita durante l'autenticazione di nuovo l'esempio dell'esame è ben calzante un utente si autentica sul sito con due ruoli creatore e ascoltatore e questi due ruoli portano con sé autorizzazioni diverse il creatore può creare i podcast l'ascoltatore no non ha l'autorizzazione di creare un podcast può solo ascoltare un podcast quindi ha un diverso accesso a la stessa risorsa ma come vi dicevo prima l'autenticazione l'autorizzazione insieme o separatamente sono comunque meccanismi che nel web sono complicati pro gli errori time consuming da realizzare e possono richiedere interazioni con sistemi di terze parti immaginate tutti quei sistemi di login che avete sicuramente visto dove vi dicono fate il login con google o loggati con facebook e tu voi cliccando lì non dovete creare un nuovo utente ma alcune informazioni vengono prese direttamente dal vostro profilo google o dal vostro profilo facebook ecco per realizzare quel tipo di autenticazione che usa un meccanismo che si chiama ho out 2 ovviamente voi avete bisogno di interagire con sistemi di terze parti secondo un certo protocollo secondo una certa metodologia questo ho out 2 e i sistemi terze parti possono essere google possono essere facebook che seppur utilizzano lo stesso meccanismo magari hanno alcune piccole differenze perché magari facebook ha dei dati che inserisce nel vostro profilo che google non inserisce nel profilo e quindi ovviamente ci possono essere differenze anche se il punto di partenza è lo stesso e così via quindi questi sono quattro esempi ma potremmo andare molto più avanti con questo questo per dire che è sicuramente complicato è sicuramente complicato farlo bene è sicuramente complicato affrontarlo da tutte le possibili sfaccettature ed è anche molto delicato perché con l'autenticazione e l'autorizzazione se prendete ad esempio della banca abbiamo anche dei problemi di sicurezza di privacy non indifferenti inoltre questa complicatezza vi deriva dal fatto che l'autenticazione e anche l'autorizzazione coinvolgono sia il client sia il server perché il processo inizia nel client continua nel server ma poi torna nel client per fornire all'utente l'accesso meno a certe risorse e quindi richiede di capire anche alcuni nuovi concetti come le sessioni che anticipavo prima in generale quando parliamo di autenticazione e autorizzazione e questo faccio è un disclaimer che faccio adesso ma vale per tutto il resto di questa lezione è meglio se noi ci appoggiamo e sfruttiamo le best practice che già esistono i processi diciamo pseudo standard le buone norme i framework le librerie che ci semplificano e fanno già loro quello che diciamo il lavoro sporco che ci serve sotto il cofano da fare per realizzare l'autenticazione e l'autorizzazione in maniera ottimale in modo da evitarci di commettere errori errori che hanno anche un impatto come dicevo sulla parte di sicurezza sulla parte di privacy e quant'altro e in generale se possibile quando si fa autenticazione e autorizzazione soprattutto se farete un sito web un'applicazione web da poi sviluppare da rilasciare al pubblico anche in base a cosa farà la vostra applicazione web se sarà un'applicazione per per i podcast è sicuramente molto diverso da un'applicazione di commens e commerce dove ci sono degli acquisti dove ci sono dei soldi in gioco che è molto diversa un'applicazione bancaria che ovviamente ha tutti altri requisiti o un'applicazione per fare trading online di azioni che ha un alto livello a un altro livello di sicurezza perché ci sono cifre anche economiche e requisiti importanti alle spalle. Quindi quando parliamo di autenticazione e autorizzazione è anche importante se possibile avere avvisi, avere direzione da chi? Da esperti di sicurezza che possano anche orientarvi nelle scelte pratiche soprattutto non tanto per lo sviluppo e la prototipazione o ai fini di un esame ma soprattutto nel mondo reale e per lo sviluppo di certe categorie di applicazioni in particolare. Noi affronteremo brevemente, velocissimamente alcuni aspetti fondamentali di sicurezza dell'autenticazione dell'autorizzazione perché alla fine sia autenticazione che autorizzazione rientrano nel dominio della sicurezza e quindi due cose, le cose base che ci servono a sapere, ci servono a dire, le dobbiamo affrontare ma molto lo lasceremo fuori perché non è ovviamente tra gli obiettivi di questo corso, non possiamo fare tutto in questi sei crediti. Già stiamo facendo probabilmente tanto. Come dicevo per affrontare l'autenticazione e l'autorizzazione ci servono due concetti nuovi, un concetto e una tecnologia specifica. Il concetto è quello delle sessioni e la tecnologia invece è quello dei cookie che saranno l'oggetto del prossimo video. Grazie.